Ciao a tutti e ben ritrovati, siamo giunti alla quindicesima lezione della nostra masterclass di T-SQL andiamo a chiudere la parte 3 andando a vedere le basi del T-SQL così siamo pronti per iniziare ad utilizzare un po' le funzioni primarie oggi andremo a vedere come funziona Truncate e Drop che sono delle funzioni similari al Delete, solo che funzionano in un modo molto più efficiente però non si possono sempre utilizzare, fanno delle cose leggermente diverse al Delete allora andiamo nel nostro database, qui andiamo sempre nel database di ripristino che ho messo su per non scassare quello di produzione che abbiamo qua andiamo nelle nostre tabelle, facciamo un bel Select 1000 sulla Customer perfetto, qua ci mettiamo un bel asterisco, così abbiamo la query sintetizzata e ci tiriamo sul codice, perfetto all'interno di questa tabella qui noi cosa abbiamo? praticamente abbiamo i nostri record, ipotizziamo che adesso noi vogliamo cancellarli tutti in un colpo come vedevamo nelle precedenti lezioni potremmo usare la funzione di Delete ok, posso anche scrivere minuscolo ma sono un po' fissato Delete From e ci mettiamo il nome della tabella se io lancio questa cosa qua, manca una E se lancio questa cosa qua lui mi svuota tutti i record che ci sono all'interno della tabella perché non ho messo una condizione di where applicando un filtro però questa operazione potrebbe risultare lenta perché quando io utilizzo la funzione Delete ok, vado a cancellare il record uno alla volta lui prende ogni singolo record e va a cancellarlo quindi apre tante operazioni se andate a fare una cancellazione ipoteticamente di una tabella da un milione, dieci milioni di righe la lanciate e state qui magari un minuto o due minuti e lui continua a cancellare il record uno alla volta per fare una cancellazione totale e immediata basta utilizzare la funzione del Truncate quindi facciamo Truncate Table quindi devo sempre scrivere Truncate Table e dopo ci metto semplicemente il nome della tabella ok, questa riga qua Delete From ok, nome database, schema, tabella e Truncate Table, nome database, schema, tabella è esattamente la stessa identica cosa solo che questa istruzione qua di Truncate andrà ad eliminare istantaneamente tutti i record che sono all'interno della nostra tabella quindi se avete anche un miliardo di record fate il Truncate, ci sta a qualche secondo fate il Delete probabilmente con un miliardo di record dopo due giorni siete ancora lì che aspettate però il Truncate al Truncate non potete andare ad applicare un WHERE perché lui va a sbrasare veramente tutto quello che sta all'interno della tabella è anche vero che il Truncate può eliminare partizioni di tabella però per poter fare questa cosa qua bisogna andare a partizionare il set di dati che sta all'interno della tabella e è una cosa un po' più avanzata che vedremo più avanti probabilmente quando andrò a fare un corso di approfondimento del T-SQL per adesso sappiate solo che il Truncate appunto ci permette di svuotare istantaneamente il dato all'interno della nostra tabella adesso io lo eseguo, vedete l'ho eseguito, lancio la Select me l'ha fatto in un attimo lancio la Select e nella mia tabella non c'è più niente perfetto, questo è il Truncate ora guardiamo il Drop prendiamo ad esempio questa qua, un'altra tabella tasto destro, crea script per la tabella qui possiamo anche utilizzare uno script rapido il Truncate e lo script non so perché non l'hanno mai inserito e qui facciamo Drop In e c'è anche Drop e Create In allora noi facciamo Drop e Create In così quando noi avremo eliminato i dati ci ricrea anche la tabella perché la differenza tra Truncate e Drop qual è? che praticamente quando noi facciamo Drop distruggiamo completamente la tabella sparisce come se noi facessimo tasto destro sulla tabella facciamo Elimina quindi distruggiamo completamente la tabella in un attimo quindi sia la tabella che i dati che sono in essa contenuti vengono sbrasati totalmente lui che cosa scrive qua su? praticamente lui scrive un po' di codice lui va a fare questa istruzione qua che praticamente non è altro che un if non è strettamente necessario scriverla quello che interessa è questa riga qua questa riga qua ok magari prendiamo il database al posto di scriverlo qua su lo mettiamo qua giù che così vi è tutto più chiaro mettiamo anche il database qua è il punto ok basta scrivere come il Truncate si mette Drop Table sempre Table si deve definire cosa si va a fare il Drop dove il Truncate dove sempre su una tabella ok e lì diciamo che vogliamo fare il Drop di questa tabella qua quindi se io vado ad eseguire questo codice qua non serve necessariamente lanciare anche questa cosa qua se vado ad eseguire questo codice qua lui mi cancellerà completamente la tabella quindi è questa qui io adesso la seleziono ok faccio esegui perfetto lui l'ha cancellata se io adesso faccio vedete Employee Privileges se io adesso vado a ad aggiornare le mie il contenuto delle mie tabelle ok Employee Privileges sparirà vedete non c'è più è sparita perché il Drop appunto mi ha cancellato tutto quanto se adesso lo rieseguo ok dice che il codice non è possibile lanciarlo adesso ritorniamo col codice sorgente se eseguo questa prima cosa qua vedete lui dice i comandi sono stati completati perché appunto c'è l'istruzione che metti in automatico ma ripeto non è un problema lui fa un controllo se la tabella esiste a sistema se esiste allora la cancella altrimenti non lo fa però comunque è trascurato il codice che vi inserisce lui qua l'importante è sapere questa cosa qua poi questi controlli qua sono utili quando si fanno delle store procedure che magari abbiamo un codice che va a fare n determinate cose quindi ne fa n di operazioni e a un certo punto potrebbe essere che un'operazione fallisce allora bisogna sempre fare un controllo di quello che si va a fare quindi si vanno ad inserire anche questi pezzi di codici praticamente abbiamo cancellato la nostra tabella però noi furbamente abbiamo fatto drop e create in quando abbiamo creato il codice quindi poi lui mi ha sotto mi ha generato anche il codice che servirebbe per andare a generare nuovamente la tabella quindi con create table lui mi scrive proprio create table vedete quindi crea questa tabella e mi crea questa libreria e questo nome tabella qua ok me la crea dentro qua e poi mi definisce all'interno delle parentesi tutti i campi che erano definiti all'interno della mia tabella e mi dice anche la formatazione che era applicata in quei campi quindi se io lancio questa cosa qua esegui ok lui me l'ha praticamente ricreata però l'ha ricreata vuota infatti vedete eccola qua che la ritrovo e se andiamo dentro troviamo le colonne con i campi già definiti come erano originariamente quindi il drop praticamente mi permette di cancellare la tabella e ricrearla può essere un'operazione che può essere utile anche questa perché poi andando avanti nel corso vedremo anche che si possono andare vedete qui ci sono anche delle chiave dei vincoli dei trigly degli indici si possono andare a fare tante cose quindi il drop a volte ci torna utile per andare a resettare completamente la configurazione della tabella tendenzialmente si usa il delete quando mettiamo una condizione il truncate quando vogliamo sbrasare completamente il contenuto di una tabella oppure una partizione che sta in essa bene con questa lezione abbiamo concluso dalla prossima andremo a fare un approfondimento faremo probabilmente aggiungerò una lezione in cui vi spiego come funzionano i join e poi attraverso i join andremo a fare delle select con dei join dei delete utilizzando i join tra due tabelle e un update di dati sempre facendo un join tra le tabelle che il codice va scritto in un certo modo bene vi saluto e alla prossima lezione come sempre però ricordatevi un bel like al video e se non siete iscritti iscrivetevi ciao